Con il gruppo di ricerca del professor Alessandro Parenti ci siamo occupati della parte di installazione delle reti antinsetto in Oliveta facendo una valutazione tecnico-operativa delle soluzioni proposte dal confronto con gli olivicoltori. Soluzioni che avrebbero dovuto mirare necessariamente alla ricerca di una sostenibilità economica al fine di rendere questi sistemi che già sono sostenibili da un punto di vista ambientale una valida e reale alternativa all'utilizzo in campo di prodotti fitosanitari. In breve la soluzione proposta e realizzata mediante prove sul campo prevedeva l'utilizzo di un agevolatore meccanico mediante un braccio sollevatore sia per la stesura che per la rimozione delle reti su un olivo singolo. Sono state fatte delle analisi dei tempi di lavoro che si sono mostrate soddisfacenti relativamente ai tempi effettivi di lavoro per l'operazione di copertura, tuttavia la principale limitazione è quella relativa al costo di acquisto delle reti che ad oggi permangono un costo insostenibile per gran parte delle realtà produttive toscane.